Non posso stare insieme a te. Cosa? Non possiamo continuare a stare insieme. Che? Che dici? Perché? Noi, ci andiamo. Martina, il mio bambino, possiamo essere una famiglia. Ma dove di che sei sempre la stessa? Pensavo che fare il carabiniere ti avesse fatto maturare, invece no. Perché tu non sbagli mai, vero? Tu sei perfetto, non sbagli mai. Infatti ci ha messo un anno a dire i miei figli anni. Perché io queste cose non le dico a me? Gli do un valore. Ma che sei, che sei, che sei, perché di me sono andata che sei! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Stai incinta. Ma che cosa io? Aspetta, dobbiamo parlare. Parlare di te, eh? Che sei incinta di un altro, di questo vuoi parlare? Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the stars. Da quando Patrizia si è andata, pensavo, avrebbe potuto amare nessuno o poi arrivare anche io. In tutta la mia vita non mi era mai successo incontrare una persona che mi facesse sentire dell'importante, che valgo qualcosa. Quella persona sei tu. Guarda che tu ce la vuoi fare senza aiuti. Vai nel tutto più di quello che crei. Devi soltanto capire che cosa vuoi fare nella vita. Per realizzarla. Senza bugie. Senza scorciatori. Guarda il valore che non esiste. Non vale la pena cercare. Non è facile. E' anche molto complicato. Ma ha distrutto la macchina! Ma come ha fatto? Lo sapevi benissimo cosa provavo per te. Eppure che hai fatto? Niente. Marta Peraltra No will beto함unuele. Eppure se fosse executive. Si, perveco! Si. No, lei la quale ha già!